Ciao, potreste presentarvi intanto? Io sono Andrea Luccardi e sono da Piteglia Puglia. A che intanto ti iniziavo a ballare? Dall'americane ai 6 anni, 6 anni. La mia? Io sono stato 6 anni, con il palio per gli altri, e il palio per gli altri non sono ancora quella di me. Ma insieme? Quando avete cominciato a ballare? A contraria della scorsa. E come avete fatto ad incontrarci? Un sito in votanza. Ah, vero? Quindi è un sito che praticamente ha funzionato. Sì, sì, è un sito in votanza. Mentre ballate, a che cosa pensate? Eh, a fare una cosa più pianta, a farlo del miglior modo, a metterci il cuore. A fare le cose fatte bene, a ballare bene, a tutto vivere. E' una sensazione che comunque hai sentito da dentro. Poi consiglieresti di ballare ad una vita? Un'essere cosa più difficile. Beh, sì, un figlio. Perché? Perché comunque va a dare una cosa bella, una cosa bella, una cosa bella. E poi deve essere una passione. Perché solo una passione è iniziale. Io sì, lo consiglierai perché è uno, secondo me, uno dei mostri più belli. Perché oltre al ballo comunque c'è anche l'estetica. Comunque è bello prepararsi, boccarsi, vestiti. Poi comunque è bello, sono anche malati. Sì, poi si è una coppia molto giovane. Quindi, insomma, di entrata ad avanti ce ne sarà sicuramente tanta. Giorgia, raccontate la vostra giornata tipica. La mattina fuola, un cuore, un gioco, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo e un luogo. Quindi poi ballo. È proprio una casa, un luogo, un luogo, un luogo si mangia, si va a vivere. Sì, adesso, mi fanno una scuola, un luogo, un luogo. Ma, sì, a tutti noi ci stanno le 10 minuti, ci facciamo un luogo di vino, ho qualche amici, e poi comunque... ...bappi. Grazie a tutti.